E ciao a tutti ragazzi, sono Zaborg e benvenuti in questo nuovo video. Vi starete chiedendo cosa servono un, due, tre. A niente. Oggi non ho l'intro. Non avevo voglia di fare un cazzo. Volevo provare a bere questa in un secondo. Impossibile. Lui è Pico. Si chiama Pico. Ehm... E' un papere. Pico. In questo passo la partnership con YouTube mi sa che non la vedrò mai. Un tacchino domanda Pico. Ufff. Dove te idee? Ficco. You're a fucking idiot! 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 You're a fucking idiot!